Sì, sì. Ok, vai Angelo. Allora abbiamo otto catture. Questa è una esemplare femmina. La famigliola. La famiglia. Il problema è il suo, il femmina. Questa è che cura da equilibrista, però. C'è un bel rani, non lo pensi? Ok, ok. Cosa è che non fare? Potremmo fare una cosa. Grazie. Grazie.